Buon martedì 9 aprile. Oggi il Vangelo di Giovanni ci presenta una riflessione che dobbiamo fare con noi stessi. Ci porta alla concretezza e all'evidenza della nostra incapacità di comprendere le cose della Terra e figuriamoci se possiamo comprendere quelle del cielo. Il Vangelo di oggi ci riporta anche da un punto di vista antropologico a una realtà esistenziale nella quale dobbiamo fare i conti con la dimensione della trascendenza, con il volgere lo sguardo oltre noi stessi per esplorare la pienezza della dimensione dell'amore nell'universo che passa attraverso qualcosa per noi molto difficile da comprendere. Veniamo dalla Pasqua di Ressurrezione che però è preceduta dallo scandalo della croce. Ma vediamo nel dettaglio il contenuto del Vangelo di oggi per fare in modo che anche la nostra giornata di martedì 9 aprile, oggi, sia caratterizzata da questa meditazione profonda e esistenziale, concreta. Nulla di astratto nella trascendenza, tutto molto concreto. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo Non meravigliarti se ti ho detto Dovete nascere dall'alto Frase apparentemente misteriosa Nascere dall'alto Cioè nascere dalla trascendenza Dall'andare oltre noi stessi Il vento soffia dove vuole E ne senti la voce Ma non sai Da dove viene Ne dove va A questo punto, ovviamente I tecno scienziati diranno No, ma noi abbiamo capito perfettamente Da dove soffia il vento E addirittura facciamo le previsioni Ma le previsioni durano Con affidabilità Significativa, ma probabilistica Tre giorni Dopodiché accadono delle cose Che soffertono le previsioni stesse E dunque Ciò che è Questa imprevedibilità Caratterizza L'essenza stessa della vita Su questo pianeta Infatti Dopo aver affermato Non sai da dove viene Il vento Ne dove va Parti da una coscienza Di non sapere Così è chiunque È nato Dallo spirito Guardate che questo passaggio Scritto duemila anni fa Ci porta alla pienezza Della coscienza Di una vita Che è imprevedibile Ma alla quale Noi apparteniamo In una profonda Armonia Nella dimensione Dell'amore Gli replicò Nicodemo Come può accadere questo? Gli rispose Gesù Tu sei maestro Di Israele E non conosci Queste cose Tu che sei maestro Sei sapiente Sei dotto Oggi diremmo Sei scienziato Come fai a non sapere questo? In verità In verità Io ti dico Noi Parliamo di ciò che sappiamo E testimoniamo Ciò che abbiamo Veduto È il limite Della nostra coscienza Ma l'essenza stessa La sensorialità L'esperienza sensibile Ci permette a vedere E conoscere Ma voi Non accogliete La nostra testimonianza Sembriamo Sembriamo vedere Conoscere tutto Ma non accogliamo Quella testimonianza Che parla Della pienezza E dell'essenza Della vita Se vi ho parlato Di cose della terra E non credete Come crederete Se vi parlo Delle cose Del cielo Dunque vedete Vi è un passaggio Di straordinaria Efficacia Anche educativa Gesù non fa Un discorso astratto La sua è un'esperienza Concreta Di vita vissuta Il figlio dell'uomo È il figlio di Dio La parola si è fatta carne E ci richiama Alla concretezza Ma è una concretezza Che entra in punta Di piedi Relativamente Al nostro percorrere L'esistenza E questo A mio parere Si chiama Contemplazione Contemplazione Del mistero Della vita Nessuno È mai salito Al cielo Anche in questo caso Non è una questione Topologica Perché ovviamente L'uomo contemporaneo Dì Ah no Noi abbiamo le astronavi Stiamo esplorando Che cosa Un frammento Di un universo Sterminato Del quale Dobbiamo riconoscerlo Non sappiamo tutto Dunque Nessuno È mai salito Al cielo Se non colui Che è disceso Dal cielo La parola che si è fatta carne Il grande mistero Di un Dio Che si fa uomo Che Scende Dalla sua dimensione Di creatore E diventa Creatura E questo È veramente Un aspetto Fondamentale Il cuore Del cristianesimo E questa Concretizzazione È qui Giustamente Definita È il figlio Dell'uomo E come Mosè Innalzò il serpente Nel deserto Così bisogna Che sia innalzato Il figlio Dell'uomo Perché chiunque Crede in lui Abbia La vita Eterna Dunque Il figlio Dell'uomo Il figlio Di Dio È testimonianza Per noi Difficilmente Comprensibile Della vita Eterna Della Della risurrezione Costante Della vita Nella pienezza Della vita Eterna Nella autenticità Della vita Questo passaggio Scandaloso E tragico Che è quello Della croce Non è fine Non è fine a se stesso È un passaggio Pasqua Pasqua di risurrezione Vissuta Recentemente Ma che dobbiamo Trovare La forza E il coraggio Di rivivere Costantemente Giorno Giorno Dopo giorno È un brano Del Vangelo Intenso Da leggere Rileggere Da approfondire Meditare Parla Della nostra fragilità Dell'incompletezza Della nostra conoscenza Della nostra genealogia Dalla trascendenza Verso la quale Siamo chiamati A ritornare Nella pienezza Di un percorso Esistenziale Nel quale La vita È più forte Della morte La vita Risorge Costantemente Nonostante I tanti conflitti Che esistono Su questo pianeta Non dobbiamo Semplicemente Disperarci Ma ritrovare Nelle macerie Alle quali Purtroppo Tragicamente Assistiamo Attraverso La conoscenza La vista Ebbene In quelle tragedie Dobbiamo Cogliere Nella pienezza Di un dettaglio La realtà Di una vita Che continua A rigenerarsi Nella trascendenza Che ci porta A entrare Nel mistero Della vita eterna Un brano Del Vangelo Quello di oggi Che ci parla Dello spirito Lo spirito Di vita Di verità Di bellezza Di armonia Di conoscenza Lo spirito Di amore Al quale Noi apparteniamo In termini Di dono E grazia Ricevuta Nella pienezza Dell'umiltà E della misericordia Di un vissuto Esistenziale Nel quale Ci proiettiamo Con ritrovata Gioia Anche nei momenti Del dolore E della difficoltà È un brano Del Vangelo Che ci invita A fare i conti Con il mistero Che ci invita A fidarci E a fidarci Fidarci E a fidarci Lasciarci andare Alla dimensione Della trascendenza Dalla quale Noi apparteniamo E dalla quale Veniamo Buona giornata A tutte e a tutti Che ci invita